Donne divise tra carriera e famiglia. La fatica del lavoro e gli impegni familiari mettono spesso in difficoltà le lavoratrici, soprattutto chi ricopre ruoli dirigenziali. Forse dobbiamo imparare dalle colleghe di altri paesi che riescono ad avere anche tanti figli. Ci sono paesi in cui le donne sono a vertici, sono molto presenti nel mondo del lavoro eppure hanno diversi figli. Sicuramente lì vale quanto un paese assiste la maternità e fornisce servizi per poter superare la fase dei bambini piccoli. Perché poi ho tre figli una volta che sono cresciuti, indubbiamente non c'è più differenza tra essere uomo e donna. Quando sono piccoli, senza altro, può diventare addirittura drammatico il dividersi tra esigenze di un bambino. Io ho detto spesso che non conta solo la qualità del tempo, ma con i bambini conta anche la quantità. Quindi veramente si tratta poi di dividersi fra due cose importanti. E un paese, se vuole aiutare le donne a crescere, deve assolutamente fornire servizi migliori di quelli che ci sono adesso. Bisogna allora rispettare il work-life balance, cioè trovare un giusto equilibrio tra il tempo speso al lavoro e la propria vita privata. Per questa ragione dovrebbero essere incentivati e potenziati i servizi e i supporti. Bisogna incentivare di più silenido, bisogna avere trasporti più idoni e più giusti, bisogna avere orari flessibili, bisogna concretamente aiutare proprio le donne. E credo che in questa direzione noi stiamo lavorando concretamente e non solo il governo, ma secondo me anche le aziende dovrebbero attrezzarsi proprio per aiutare. Che bisogna sempre ricordare che una donna tranquilla, serena nel suo posto di lavoro produce anche di più per l'azienda. La scintilla secondo me è quella di continuare, di avere fiducia in se stessi prima di tutto, prepararsi perché viviamo in un mondo globale, quindi dobbiamo essere pronti a tutte le sfide, però avere capabilità, avere determinazione e credere soprattutto in se stessi. Esistono tuttavia aziende molto attente alla leadership femminile. Direi che l'Oreal, lo dico senza assolutamente vendere la mia azienda, è un fulgido esempio di come si sia riusciti veramente a far fare carriera alle donne. Ormai il 45% delle posizioni manageriali sono ricoperte da donne, il 33% nei comitati di direzione. Quindi abbiamo dato alle donne di talento, non in generale alle donne qualsiasi, ma alle donne di talento le stesse opportunità che prima c'erano gli uomini. Ovviamente stiamo cercando di aiutarle perché una donna che vuole fare carriera non può neanche rimanere necessariamente senza figli. La donna è il suo padre. E quindi oggi tutto il grande sforzo è cercare di lavorare con loro per pianificare tempi e modi per aiutarle effettivamente a vivere una maternità senza ansia, senza stress e senza necessariamente rinunciare al suo progetto di vita professionale. Questo non sarebbe giusto. Certamente nel nostro caso non sono state le imposizioni di quote a farci cambiare l'idea. Sono dei valori che esistono da sempre all'interno dell'Oreal, cioè al rispetto della diversità. All'interno della diversità ci sono il primo gradino e anche quello donne e uomini. Però in certe realtà, forse diverse da quella dell'Oreal, può essere anche semplicemente utile un'imposizione dall'alto come primo step. All'interno della diversità ci sono le nostre persone che 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 sono i nostre persone che sono le 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 nost